incontrare ci sta controllando e armani e armani aspetta e ragazzi come va io sono feriniki e io sono stef e questo è già chiamato youtubers live e andiamo subito a salutare i nostri sei eroi del giorno che per oggi sono Graziano, Luis Miguel, Mariullo, Midori, Nunzia e Francesca ciao ragazzi grazie mille per la condivisione e vi ricordiamo che anche nell'outro saranno salutati altri sei eroi e obiettivo del giorno oggi ci riprenderemo armani oh yes ne sono sicura sono molto fiduciosa secondo me oggi ce la facciamo sapete il nostro piano ragazzi andremo a tutti i parti possibili immaginari fino a quando non incontreremo armani ma prima di tutto sai cosa sto facendo qua in questo momento e infatti me lo chiedevo cosa ci fai qua sto investigando perché nei commenti hanno teorizzato che siccome Azaria è la gemmella di Tessa potrebbe avere diciamo qualche un po' portamento da criminale capito addirittura sì 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 quindi siccome l'abbiamo beccata a rubarci diversi oggetti sì quello l'abbiamo notato sto un po' controllando che non ci sia qualcos'altro magari qualche contatto con Tessa capito è pericoloso questo è un momento qualche conversazione lasciata lì nel pc capito sono un po' preoccupato anche secondo me sì questa situazione mi puzza un pochettino nessuno ci vuole i parti quindi sai cosa facciamo? miglioriamo ancora la nostra casa con i big money assolutamente così ci odieranno ancora di più non trovi esatto io sono felicissima guarda il momento che aspettavo già dallo scorso episodio ma tu non mi avevi fatto comprare nulla per la casa quindi questo è il mio momento e sceglierò tutto io sai che sono andata a vedere un po' di cosette che c'erano senza di te? lo so sei un disgraziato ho visto delle cose che neanche immagini fatti guarda partirei forse tutto dal basso perché ci sono le cose più belle e non ci arriviamo mai di solito ok facciamo il contrario dal basso verso l'alto sei pronta? devi essere proprio psicologicamente pronta perché è troppo bello sì vai vai oh mio dio cosa tutto c'è? allora allora questi sono il telescopio bello il telescopio lo prendiamo lo voglio ho sempre desiderato un telescopio lo sai che non me l'hanno mai comprato esattamente come la casa di Barbie ok non te lo comprerà mai nessuno no un biliardino un biliardino costa 500 dollari ma ce lo possiamo permettere è carissimo è carissimo guarda no il tavolo da biliardo me lo devi prendere me lo devi prendere bellissimo gira dischi assolutamente sì questi va bene di già di già allora facciamo che faccio così e noi continuiamo a fare shopping perché non mi sta bene che ogni volta ci limitano neanche secondo me vorrei un carrello pienissimo di cose allora io diri di comprare anche altri poster voglio altri poster ne abbiamo pochi in giro per la casa ok quindi scegliamone qualcun altro questo mi piace sì è troppo carino mi piace poi forse questo qui questo qui questo qui a me piace a me piace un pochettino di panorama questa altra frase che cos'era work non la leggo work però dice qualcosa sui rivali se c'è rivali va bene è una frase contro testa se ci sono rivali probabilmente una frase contro testa perfetto cosa possiamo prendere guarda questa action figure che bella bella questa e anche l'altra ma dai vi ricordate quella stanza vuota che c'era al secondo piano nella villa guardate un po' oh mio dio tutte le cose giganti sono finite qui dentro guarda questa è una sala giochi una sala giochi vera e propria col biliardino e il biliardo bellissima sarebbe il mio sogno avere una stanza con queste due cose ma ci puoi contare sarebbe divertentissimo che figata invece guardate i poster li ha messi qua che sono bellissimi ci stanno troppo bene il telescopio è qui ovviamente nel balcone però guarda ancora non abbiamo eventi io faccio una teoria ok prima di tutto ci hanno detto che nel network possiamo rientrare dopo un mese è vero è vero quindi il pan è temporaneo quindi il pan è temporaneo di dire anche questa cosa io mi stavo preoccupando avevo davvero paura che non potessimo più rientrare e invece bisogna attendere solo un mese ok esatto però guarda scusa noi siamo entrati in questo network ok abbiamo la carta VIP quindi vedi dobbiamo partecipare comunque ad un evento e nessuno ci invita cioè questa allora allora mi vuoi dire che siamo riusciti a buggare anche gli eventi in questo gioco cioè che non è la prima cosa che bugghiamo esatto non so come siamo riusciti a non farci invitare non è la prima e non sarà l'ultima secondo me farei una frase ad effetto del genere guarda 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 comunque vedi possiamo già ripartecipare quindi io ti dico questo appena sta per finire il mese abbandoniamo questo e appena inizia il nuovo mese rientriamo nel nostro network preferito e vediamo se ci arriva qualche invito ok va bene finalmente finalmente almeno il network ci ascolta allora vediamo cosa ci propone ciao stariniki sono un portavoce del network abbiamo bisogno che tu faccia un speedrun di oligoblin per al pc riceverai il gioco a casa tra poche ore abbiamo garantito al cliente al non meno di 632.000 visualizzazioni pensi di farcela ma certo che ce la facciamo ma certo siamo i migliori noi certo dai questo lo citiamo non è poco la richiesta diciamocelo il problema ok che la speedrun dà dei problemi la speedrun ogni volta che ho provato a farla è stata aspetta aspetta andiamo 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 oh mio dio capito noi abbiamo una richiesta di lavoro e impazziamo perché dobbiamo andare al cinema perché sta succedendo tutto in una volta siamo non so quanto tempo che stiamo aspettando un accidenti di invito a un evento perché se non ci invitano dal cellulare noi ci andiamo a forza quando ci invita Diana nessuno ci fermerà dall'andare nei parti capito Armani è nostro è impazzita Tessa Tessa non può vincere lo dico da 200 episodi Tessa non può vincere questa guerra ok lo sto vestendo in modo troppo carino guarda se ti piace secondo me è davvero bellissimo davvero davvero carino ma hai controllato uh belli questi occhiali belli no quello era troppo bellino il papion il papion ok il papion ti ho chiesto io l'ho cliccato e non me l'ha preso andiamo andiamo abbiamo un problema a che punto è la nostra relazione con Armani però siamo ancora non abbiamo più controllato non siamo faccina nemica ma neanche faccina felice capito abbiamo mollato il gioco che ci hanno fatto la richiesta di lavoro e dobbiamo farlo entro un giorno cioè ci licenziano assolutamente meritiamo di essere licenziati ci bannano di nuovo perché siamo impazziti per gli eventi e non per il gioco comunque no silenzio silenzio dovevo chiedere una cosa potrebbe esserci Armani non c'è vero non c'è vero quella è Tessa qual è quella lì giù quella non la vedo lì nell'angolo a destra porca miseria guardala no è Saria no è Tessa te l'ho detto che è Tessa io non la confondo mai con Asaria io non la confondo mai guarda ha usato Sereniki l'ha odiata talmente tanto che non ci possiamo neanche parlare neanche rivolgere la parola cioè secondo me sai che cosa ha fatto ha legato Armani in casa proprio chiuso con il lucchetto in una stanza ed è venuta lei al party pur di non farcelo incontrare ci sta controllando Armani 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 aspetta aspetta sono troppo emozionata respiriamo respiriamo ok Tessa non ce l'ha fatta vedi si è liberato rinnego quello che ho detto due secondi controlliamo il profilo vedi la relazione è questa faccina allora andiamo a parlarci dai è il momento è il momento più importante andiamo a parlarci siamo vestiti carini abbiamo un cappello di Pikachu preparati bene anche tu preparati bene su messo in ordine dai fate delle faccine sorridenti ok 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 la barra sta salendo ci sta sorridendo io dai ti prego ti prego dimmi che lo possiamo assumere se ce la facciamo davvero io mi lancio lancio la pega lancio tutto perché non ci credo all'idea cioè al fatto di poter riavere Armani non so più neanche cosa dire da quanto sono emozionata dopo questa faccina quella giusta o no oddio è scesa è scesa allora con calma con calma no ci sta allontanando ci sta allontanato un po' riproviamoci ti prego dai Armani facciamo pace ok 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 si ora possiamo darci conoscenti magari ci vediamo in giro ok io continuo a provare a parlarci sinceramente allora dobbiamo fare un'altra barra per poterlo assumere esatto sembra di buon numero e quindi sto cercando di approfitarne te sei lì all'angolo dimmi che la possiamo insultare ti prego no non possiamo chi sta parlando Diana scusami sono gelosa guarda 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 chi sta parlando guarda ci sta no 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 lasciamolo così magari secondo me se gli facciamo vedere la casa abbiamo il biliardo abbiamo un sacco di cose magari magari accetta di tornare ad essere il nostro collaboratore comunque è un passo avanti all'inizio del video eravamo disperati perché nessuno ci invitava ad un evento siamo riusciti ad andare a forza grazie a Diana grazie a Diana perché Diana sa le nostre sofferenze e ci ha appoggiato in queste imprese da vera moglie Tessa ha provato a intralciarci perché l'hai vista che era lì a spiarci ma noi siamo riusciti a tornare conoscenti con Armani sono troppo felice guarda sono davvero davvero felice guarda lei lì con chi sta parlando guarda la gara sta complottando qualcosa è amica di Georgia ce lo dobbiamo ricordare assolutamente e poi lì vicino c'è pure questo Casey allora prima di tutto un milione e mezzo di iscritti infatti guarda qua obiettivo completato e adesso sale di livello sale anche al cielo si eleva a un qualcosa di più grande ok abbiamo una nuova cosa comprabile da Ikea oh mio dio sono troppo curioso di andare a vedere ma dobbiamo fare le cose in modo serio si dobbiamo muoverci perché altrimenti non riusciamo a farle in tempo entro il 22 novembre allora stavamo dicendo ok delle speedrun ecco che problemi ti danno guarda allora noi facciamo scegli un gioco ok il gioco che ci ha proposto dovrebbe essere questo qui si vedi Holy Goblin speedrun qua non ci scrive nulla allora te lo faccio leggere da qui ok ok perfetto allora la speedrun dovrebbe essere questa condividi con i tuoi followers l'arte di fare missioni nascoste o trucchi devi essere un vero esperto del gioco se vuoi che riesca bene cosa vuol dire che prima dobbiamo fare qualche gameplay e poi la speedrun che dici guarda perché per la wall true dice che devi fare molti gameplay per fare la speedrun devi essere addirittura esperto quindi io pensavo facciamo un bel po' di gameplay facciamo alcune wall true e poi facciamo la speedrun ma così difficile dall'8 novembre al 22 novembre sarà difficilissimo allora inizia a lavorare su 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 veloce abbiamo anche le carte con il copyright la facciamo registrare a tutti e tre giusto hai ragione hai ragione facciamolo registrare a tutti abbiamo anche le carte con il copyright quindi possiamo provare anche cose un po' birichini adesso allora prima mettiamo Erwin perché altrimenti lui non registra mentre noi lavoriamo dopodiché ci proviamo noi ragazzi dobbiamo riuscire a farlo bene perché il network questa volta non ci deve licenziare c'è uno scritto che basta abbandonare il network prima che finisca il mese e poi rientrarci ma per me è proprio una sfida non voglio uscire voglio che siano soddisfatti di noi non credo che ci riusciremo però è un gioco di calcio è carinissimo dobbiamo essere concentrati comunque ho notato che le faccine ci sono di più quindi ci da una mano dovrebbe essere più semplice perfetto ma dobbiamo fare un video perfetto abbiamo messo tutti e tre a fare questo gioco perché dobbiamo farne tantissimi entro il 28 novembre ed è già il 10 22 non ti confonde abbiamo solo 12 giorni esatto siamo davvero davvero in difficoltà questo perché siamo andati al cinema esatto però abbiamo trovato Armani al cinema quindi non ti lamentare non ti lamentare hai trovato un oggetto nascosto urlo celebrativo no pensavo di aver indovinato ogni volta ti esalti un po' troppo ma non funziona mai mi dispiace io ci provo niente guarda non è a zecco uno sì 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 va benissimo accettiamo ranking 32 altri scritti allora aiutami un attimino che dobbiamo editare velocissimi e poi andare a casa sua per farci ancora più iscritti è difficile questo sto vedendo che non c'è nulla sì sì perché abbiamo sbagliato un sacco di carte la verità è quella non dovevi dirlo dovevi dire che era il gioco che si è flipato un po' no 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 è colpa nostra me la sto cavando me la sto cavando bravo aspetta 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 vai ok io non te lo vorrei dire ma mi stai facendo addormentare così così bravo è così bravissimi bravissimi poi aggiungiamo le fette di questo perché ne abbiamo pochissimo sì del verde ne abbiamo sempre poco nel verde ne abbiamo sempre poco e anche dell'arancione sono quelli che dovremmo potenziare sempre esatto vai 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 sono a casa sono a casa che fai secondo te che sto facendo stiamo lavorando come sempre ballando il tango argentino guarda come sto pubblicando i video di tutti velocissimo mentre SteriNiki va a casa degli altri ci sono tutti i computer rotti abbiamo solo 10 giorni aiuto non ce la faremo non ce la faremo non ce la faremo rassegnati perché non ce la faremo però ci andiamo a prendere gli iscritti 60.000 nuovi iscritti e siamo a 1.573.000 ai 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 è buonissimo numeri folli numeri folli però la cosa più importante è che mancano 9 giorni e siamo ancora in alto mare allora facciamo così rimettiamo entrambi a registrare il video del gioco ok dopodiché ci fermiamo e ci lasciamo per il prossimo episodio proprio il momento clou di questa sfida contro il tempo in cui faremo la speedrun e speriamo che raggiunga volevano 600.000 visualizzazioni se non ricordo male davvero tantissime quindi dobbiamo farla 650.000 come minimo per di più dobbiamo farla proprio perfetta perfetta eh infatti andrà male ok per questo episodio ci fermiamo così nel prossimo episodio cerchiamo di fare il video della speedrun e ovviamente proviamo a invitare a casa Armani per riprendercelo indietro e secondo me questa volta possiamo farcela ti voglio dire una cosa prima di parlare di Armani se non riusciamo se non riusciamo a fare la speedrun ok facciamo come ci hanno detto usciamo dal network e ci rientriamo esatto io sono disposta a tutto pur di rimanere in questo network mentre un'altra proposta ci chiedono di fare una walkthrough del gioco almeno 608.000 visualizzazioni accettiamo anche questo e speriamo per il meglio si va bene tra il 25 ma sono pazzi in questo network fanno delle richieste totalmente folli è un network prestigioso quindi è normale che pretendano il meglio da noi che ti devo dire e prima di finire il video andiamo a salutare gli altri nostri sei eroi del giorno che per oggi sono Pierluigi Games GMMS Valerio Mirko Viviana e Miriam ciao ragazzi grazie mille per la condivisione beh ragazzi il video è felice così se vi è riuscito a scettici un bel like e se è la prima volta che vedete un nostro video potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi ciao alla prossima ciao ciao